Raccontare Scafati attraverso il suo passato e attraverso l'archeologia, questo è l'obiettivo dell'incontro promosso al liceo di Scafati e che vede protagonista l'archeologa Marisa De Spagnolis. Il territorio di Scafati era il suburbio orientale di Pompei, con la villa dell'uomo più ricco di Pompei, per cui è un territorio ricchissimo, che va tutelato, salvato e anche con un territorio dove si possono fare grandi progetti. Oggi l'incontro con gli alunni si cerca anche di trasmettere un po' quella che è anche una passione. Sì, si deve trasmettere la passione perché saranno loro i fruitori futuri di questi beni e sono quelli che devono cercare di capire anche come fare a utilizzare questi beni anche in funzione economica. Beni che secondo lei oggi quanto vengono valorizzati? No comment, no comment. Si potrebbe però fare di più. Ma certo, si può fare di più. Soprattutto bisogna entrare in un'ottica diversa, che il bene non è qualcosa che sta lì, l'abbiamo salvato, l'abbiamo protetto e basta. Il bene va recuperato dal punto di vista culturale prima di tutto e poi va recuperato anche dal punto di vista economico. Io insisto, io sono stata a Xanten e ho visto dove dei resti archeologici ridicoli li hanno ricostruiti perché potevano ricostruirli e hanno fatto un'area archeologica visitata da migliaia e migliaia di persone. Quindi l'importante oggi anche alla valenza di questi convegni è cercare di dare là anche alle future generazioni. Certo, senza dubbio.